amiche ed amici della lettura salve quanto sono importanti per noi i sogni sono fondamentali sono inutili sono belli sono brutti ci possono svoltare la vita ci possono cambiare la giornata ma soprattutto se un sogno è rotto è possibile ripararlo di questo e di altro parleremo con l'ospite di questa sera e che ospite fatemelo dire permettetemi di presentarvi linda traversi ciao linda ciao alfonso e ciao a tutti quelli che ci stanno seguendo come grazie a te grazie a te come stai va bene bene tutto a posto tutto in infibrillazione quindi è sempre positiva linda partiamo dall'inizio per chi non ti conosce chi è linda traversi il don don esistenziale allora io sono una persona che cerca di scrivere sempre meglio anzi che cerca di raccontare storie sempre meglio perché perché ognuno ha la sua voce no io sto cercando di scoprire la mia sempre di più e di prodotto padroneggiarla sicuramente noi oggi affronteremo due temi che mi sono molto cari e ci arriveremo però sono molto curioso quando è nata la tua passione per la scrittura quando è che hai sentito quella quella voglia quel bisogno di raccontare le tue storie guarda io in realtà non ho mai avuto il sogno di scrivere giusto perché siamo in tema di sogni o come aspirazione come desiderio io ho sempre letto tanto quello sì fin da quando ero ragazzina e sono sempre stata appassionata di storytelling in tutte le sue forme quindi film teatro e serie tv e anche le chiacchiere con le amiche con gli amici proprio ore ore ora raccontarci no le nostre giornate le nostre settimane quindi forse quello era un po il mio bagaglio poi sono arrivata a un punto in cui ho avuto tempo e ho detto ma quasi quasi provo e quindi mi sono messa lì ho cominciato così così cioè senza aver fatto un corso niente quindi poi ho trovato spero almeno un po di più sono diventata un pochino più consapevole scrivendo scrivendo sì però ecco è un po è stata una sorpresa ecco quello sicuramente alcune volte si utilizza la scrittura per conoscere se stessi quanto è stata importante quella scrittura per per linda per conoscere linda guarda questa è una domanda è veramente importante nel senso che quello che mi succede di solito è che io comincio da un'immagine da un'emozione che mi fa venire mal di pancia io dico no c'è qualcosa che veramente ti tocca nel profondo nelle viscere e poi ci si costruisce da sola la storia attorno no e e poi quando arrivo in fondo al romanzo dico ah quindi in realtà parlava di me anche tramite la fiction quindi tramite altri personaggi la storia parla un po di me e ti aiuta un po a mettere ordine forse non ti aiuta per forza a capirti completamente ma capisci che hai dei nodi da sciogliere ecco quello sì prima hai detto che sei una grande lettrice e io sono purtroppo una scimmia curiosa io ho bisogno di sapere che cosa legge linda traversi hai un genere preferito allora guarda anche questa è una domanda che sono proprio in un processo di cambiamento perché tempo poco tempo fatto avrei detto che prediligo la narrativa non di genere quindi storie che soprattutto danno tanto spazio all'introspezione a come a come anche le piccole cose quotidiane riverberano e quindi influenzano come come ci sentiamo no però in realtà poi ultimamente mi sono capitate cose che esulano un pochino da quello che avrei preso in mano librica magari mi hanno fatto dei regali mi sono capitati conoscenti che mi hanno detto perché non provi questo allora per esempio ho letto steven king che non avevo mai considerato perché horror io paura e in realtà sono rimasta super flashata non so se sei un estimatore di steven king mi piace abbastanza ecco poi non so mi piace ultimamente ero al dal tanto che l'ho recuperato o sto leggendo adesso john didion quindi saggistica e the year of magical thinking che è in italiano l'anno del pensiero e magico mi sembra quindi saggistica non fiction e mi sono resa conto che dipende dalla voce degli autori quindi se probabilmente credo io mi trovo sulla stessa lunghezza d'onda dell'autore che mi racconta la storia allora io vengo proprio catturata insieme ai personaggi e allora non importa tanto che tipo di trama è o se la storia è molto molto lontana dalla mia esperienza di vita ma se vengono evidenziati i sentimenti che mi è capitato di provare a me o che comunque sono vicini invece al mio vissuto allora io ci entro con tutte le scarpe capito quindi adesso io ti direi tutto tutto quello che mi capita se già subito la prima pagina come voce dell'autore mi cattura vai io sono una fedele lettrice pennac diceva che il lettore ha dei diritti anche il diritto a chiudere il libro dopo la prima pagina se non addirittura dopo le prime parole ti è mai capitato di scegliere lasciamo perdere i regali che a volte a me hanno regalato delle cose veramente obbriose lasciamo perdere ti è mai capitato di scegliere un romanzo un saggio e di toppare clamorosamente e di dire ok basta così proprio col libro chiuso a due dita io non ho proprio problemi allora dopo la prima pagina no però magari dopo qualche capitolo le prime 50 pagine per dire così è proprio il senso no di che dove sta andando la storia quello mi è capitato ma lo faccio senza sensi di colpa anche perché magari non è il momento giusto capito mi è capitato anche di riprendere delle storie magari che avevo lasciato lì dopo qualche anno detto ah guarda lì come mi aprono invece gli occhi adesso quindi c'è il momento giusto per tutto forse non è il tuo momento per quella storia lì specifica però magari tornerà sai un romanzo che ho aperto e chiuso più volte fino a quando non ero pronto fino a quando non sono stato pronto è stato cu di luther bliss che era il collettivo che oggi si fa chiamare vming ed è esattamente quello che dici tu cioè a volte non si è pronti a te mai capitato sì sì che mi è capitato senz'altro e poi ti ripeto magari mi è capitato anche con i film mi capita mi è capitato spesso per quello ti dico io non io sono tranquilla io non faccio torta a nessuno ok magari il libro l'ho comprato me l'hanno regalato anche la persona a cui tengo gli dico vabbè però ci vedremo un giorno capito io posso dire che ti invidio un pochino perché tu puoi leggere in lingua originale tante cose che diciamo poi vengono tradotte non voglio dire tradotte male per carità però nel passaggio da una lingua a un'altra qualcosa si perde sì io poi ti dico ho studiato all'università ho fatto traduzione quindi so perfettamente di cosa stai parlando e traduco anche adesso quindi è veramente una grossissima responsabilità perché certe volte proprio le lingue non ti permettono soprattutto se si parla di testi umanisti o filosofici letterari di riportare da una lingua all'altra e quindi si devono fare delle scelte ma delle volte guadagna anche delle volte volte no quindi si cerca la soluzione migliore poi sì io sono contenta sono mi sento veramente fortunata a poter leggere in inglese però tante altre lingue mi piacerebbe leggere ma uno non è che può c'è capito conosce tutte le lingue del mondo quindi mi devo affidare anche io alle traduzioni ecco c'è una un'area geografica che attualmente ti incuriosisce a livello letterario per esempio nel mio caso è tutta l'area cino giapponese siamo amici al monzo sì io guarda per il giappone sono matta matta da quando sono cresciuta con tutti i cartoni animati forse è successo anche a te con gli anime io sono rimasta infatti poi ho trascinato il mio allora fidanzato che adesso poi è diventato mio marito in giappone sai proprio a fare la gita nel museo dei manga siamo andati nel ryokan giapponese a dormire per terra col futon quindi sì mi piace tantissimo murakami per esempio haruki murakami che immagino tu conosca e io mi sono resa conto che leggendo delle versioni tradotte da traduttori diversi un po cambia il tono di voce quindi ho il tenore comunque del proprio anche il registro e quindi è chiaro che il traduttore non è mai invisibile è vero c'è un'autrice giapponese banana yashimoto ah sì 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 che uno pensa ah che bello banana yashimoto la immagina giapponese magari mezza cosplayer un po pazzera e invece no ha scritto delle cose che se va a vedere sono devastanti parlano proprio del disagio molto disagio cioè sì 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 cioè noi magari da fuori la vediamo come una cultura patinata e divertente leggera spensierata cosa che in realtà non è però sì mi piacerebbe poter leggere il giapponese sicuramente sì 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 linda qualche giorno fa lo possiamo dire è uscito il riparatore dei sogni sì è uscito partiamo dal titolo perché il riparatore dei sogni allora la protagonista è Maya che ha 14 anni è una ragazzina che non si fida di nessuno in famiglia si sente un'intrusa e anche a scuola diciamo ci sono delle dinamiche in cui lei fa fatica a integrarsi e quindi si sente molto sola... L'unico momento, l'unico luogo in cui si sente al sicuro è quando a casa sua lei pesca delle parole da dei sacchetti, nomi, verbi, aggettivi e avverbi per le emergenze e inventa con queste tre o quattro parole una storia e questa storia diciamo che lei lascia che le parole si incasserino fra loro e poi la storia nasce da sé. Infatti lei dice è come se alzassi un coperchio su qualcosa che già c'è perché è impossibile che questi personaggi che sembrano così reali un momento prima non ci fossero e questi diventano un po' i suoi amici no? Fra questi personaggi c'è il riparatore di sogni che è il meccanico dei sogni a cui tu porti un sogno rotto che non funziona più e lui te lo ripara ma non ti garantisce che tornerà identico a prima. Anzi spesso non lo è più perché comunque con le sue cicatrici, i suoi rattoppi è diventato qualcosa di diverso e comunque ha tante nuove possibilità che uno non si sarebbe aspettato. E questa è una cosa che mi sta molto a cuore perché a me è capitato spesso forse anche a te forse anche chi ci sta ascoltando che un sogno o un desiderio, un'aspirazione che secondo te non funziona più per te lo butti, lo lasci da parte perché dici vabbè non mi rispecchia più, le cose sono andate diversamente, non ci sono più le condizioni per cui. E invece basta secondo me o un incontro speciale o anche semplicemente un cambio di prospettiva e come noi ci adattiamo ai cambiamenti della vita anche i nostri sogni si adattano con noi e quindi potrebbero veramente ancora funzionare, in alcuni casi ancora meglio di prima. Vero, è vero, è vero, i sogni possono avere un'evoluzione e succede anche nella vita reale, per esempio io non pensavo che mi sarebbe piaciuto insegnare. Vedi? Sì, il mio sogno si è evoluto in altro ed è diventato qualcosa che mi piace, quindi è vero. Rimaniamo ancora sul riparatore dei sogni, vorrei chiederti di raccontarci se è possibile un aneddoto collegato alla stesura del romanzo. Allora, più che un aneddoto ti posso dire che io quando Maya, la protagonista, estraeva le parole dai sacchetti, lo facevo anch'io quando scrivevo. Quindi nel momento del capitolo in cui doveva nascere la storia, io in realtà non avevo dei bigliettini fisici, avevo un database digitale, pescavo da lì e aspettavo anch'io che le parole mi raccontassero una storia. Quindi, e anche il riparatore dei sogni stesso non l'avevo io preventivato, cioè è nato strada facendo. E poi invece è diventato un personaggio che poi sarebbe un po', in un certo senso, l'incoscio della protagonista, che invece si è preso il peso di cui aveva bisogno, capito? Quindi veramente tu cominci, io di solito mi succede che so come finisco, però quello che sta in mezzo, chi lo sa? E questa è una cosa bella, delle volte mi fa venire tanta inquietudine perché dico, ma da dove escono tutte queste cose, no? C'erano, come Maya che apre il coperchio, c'erano già e io non lo sapevo. Quindi il meccanico dei sogni, il riparatore dei sogni c'era già e io non lo sapevo, però c'era. Posso farti una domanda impertinente? Prova. Il tuo romanzo, possiamo dirlo, è inquadrabile come un vero e proprio romanzo di formazione, rivolto ai giovani. Tu parli di giovani in un modo veramente molto vicino al linguaggio, alla sensibilità dei ragazzi. E questo lo so per esperienza perché oltre ad aver letto diversi estratti del tuo romanzo, ho anche, diciamo, il polso della situazione, lavorando con quella fascia d'età. Come mai hai scelto questo taglio narrativo? Nel senso, il romanzo di formazione è complesso da maneggiare e nelle antologie diciamo che forse la scelta è ancora legata a qualche vecchio schema, qualche vecchio, diciamocelo chiaramente, viene visto come un romanzo un po' pesantuccio. Tu invece l'hai reso molto fresco, molto dinamico. Come mai? Mi fa tanto piacere questa cosa che dici perché io non l'ho fatto intenzionalmente, nel senso che la storia è arrivata e io l'ho raccontata. E questo mi è successo anche con il romanzo precedente, che è La panchina delle cose difficili, sempre edito per Enaudi Ragazzi. Io quando ho scritto quel romanzo non avevo l'editore, non avevo nemmeno l'agenzia letteraria. Poi dopo mi hanno spiegato che se la protagonista ha 13 anni, la fascia, diciamo, il pubblico prediletto per quel tipo di romanzo ha quella fascia d'età. Quindi sono stati meccanismi che poi io ne sono diventata consapevole dopo. Però mi è arrivata la storia di quella ragazzina, io ho raccontato quella storia lì. E questa allo stesso modo. Devo dire che avendo incontrato tanti ragazzi quest'anno passato, soprattutto anche il precedente, ma soprattutto l'ultimo, veramente io ho scoperto un mondo che non sapevo esistesse, così ricco. Cioè, bellissimo è stato incontrare questi ragazzi e che hanno tantissima voglia di essere ascoltati. Io quando anche, magari faccio le dediche alla fine, mi raccontano dei segreti enormi, delle cose proprio intime. Io ho cinque minuti, capito? Vorrei stare lì un giorno intero con ognuno. Quindi l'idea di poter essere utile in un certo senso e di poter dire a questi ragazzi che chiaramente l'adolescenza è un periodo difficile, comunque faticuoso perché stiamo esplorando, magari siamo confusi, non abbiamo tanti punti di riferimento, stiamo cercando di capire chi siamo, dove vorremmo andare, quale potrebbe essere la nostra strada. E io li voglio rassicurare nel fatto che nessuno è sicuro. perché anche io da adulta, una ragazzina mi ha chiesto, ma lei, mi dava del lei, che è così, comunque una scrittrice, ma come ha fatto in medesimarsi una ragazzina così insicura? E gli ho detto, ma io sono insicura? Tantissimi adulti sono insicuri, poi forse lo mascheriamo meglio, no? E quindi è lecito cambiare idea, cambiare percorso, e il fatto di non lasciarli soli in questo momento e di dirgli siamo tutti in barca a vela, chi più chi meno, li rassicura tanto. Io pure gli ho detto, ho cominciato a scrivere poco tempo, ho fatto degli studi che non c'entravano niente, mi fanno davvero? Io sì, sì che si può fare, si può cambiare in corso d'opera, si possono trovare delle nuove passioni che non sapevamo di avere, quindi un po' come è successo anche a te, no? Sicuramente tu sei un insegnante illuminato che già questi discorsi li fa quotidianamente, no? Assolutamente. Eh, però non è sempre così, io delle volte mi hanno proprio guardato con due occhi così, tipo, ah, eh sì, 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 quindi ne sono proprio felice, ecco, se gli posso dare anche una parolina di incoraggiamento, proprio tanto, tanto felice. Infatti ti dico, io ho percepito il tuo romanzo, ovviamente come un romanzo di formazione, ma quando dico fresco è perché non è pensato, non è, l'ho sentito non come pensato per adulti, per come dovrebbero essere i ragazzi, ma l'ho visto proprio come un romanzo che è venuto fuori da un'esperienza, poi magari se ti fa ne parleremo dopo, per questo l'ho sentito proprio fresco, bello, i giovani direbbero sul pezzo, io che non sono più tanto giovane, sono diversamente giovane, direi, proprio tagliato su, sono troppo felice che mi dici così, io, lo vedi, come mi esprimo e come parlo, sono molto, cioè, informale, come tipa, e quindi è anche quello che mi piace, è come mi piace scrivere, perché se no non mi riconosco nelle parole, capito? E non sarebbe neanche credibile come scrittura, può essere, perché diventerebbe forzata, stucchevole, invece no, non è una domanda impertinente, ma è una domanda che comunque il tuo romanzo ruota intorno a due elementi fondamentali, da un lato l'autostima, dall'altro la fiducia, due elementi che oggettivamente a volte sono un po' deficitari, non solo nei giovani, ma anche negli adulti, soprattutto un po' di autostima, un po' di fiducia, voglio dire, come mai hai scelto questi due elementi come fondamenta per il tuo romanzo? Guarda, anche questa è una cosa che non so, nel senso che non l'ho scelta, non ho scelto nemmeno i temi, la storia, i temi, non l'ho, io credo che, come ti dicevo prima, no, almeno per me funziona che io parto da qualcosa che mi interessa e che mi fa venire il mal di pancia, e poi non so esattamente dove mi porta. E credo anche che quando scrivi un romanzo che veramente ti sta a cuore, scrivi di quello che in quel momento ti interessa o che stai attraversando e quindi evidentemente la foto di me nel momento in cui scrivevo era quella che dovevo elaborare ancora delle cose sulla fiducia e sull'autostima perché, allora, io ho un po' di problemi di autostima che da una parte credo che mi aiuti una cosa perché mi stimola molto a migliorare perché dico no, non va bene, devo fare meglio, devo fare meglio, devo fare meglio e questa è una cosa che mi piace. Dall'altro spesso mi sento a disagio perché mi sento di non essere abbastanza e quindi e credo che questo, ora, se proprio dobbiamo fare una psicologia spicciola sia perché io ho da ragazzina ma anche adesso come tipo di persona ho il problema opposto a Maya cioè io mi fido di tutti cioè nel tempo crescendo sono un po' migliorata ma non tantissimo quindi io mi fido proprio tantissimo con tutti troppo subito e cosa succede? Rimango delusa spesso ma devo dire credo di essere stata fortunata fino adesso perché non credo che nessuno si sia mai messo lì di impegno per farmi star male questo no però capita che magari le persone si allontanano che magari qualcuno si abbandona per qualche motivo magari ci sono degli screzi ci sono delle incomprensioni e quindi io tutte le volte mi sentivo come se fosse colpa mia capito? come se fosse un problema mio e quindi quella persona si è allontanata perché io non ho invece cioè succede capito che magari le persone si allontanano perché i casi della vita le circostanze eccetera razionalmente lo so però io sono cresciuta così e quindi forse io siccome mi fidavo troppo e deputavo forse il mio valore cioè calcolavo il mio valore in base a quanto le persone mi stavano vicine quando qualcuno se ne andava io dice oddio ma allora non ho un valore io capito se queste persone dopo un po' si allontanano io mi faccio sto pensiero qua ecco è vero a volte non pensiamo che magari è lo stesso pensiero che fa l'altro e nel paragonarsi è l'altro che percepisce una mancanza di valore un valore inferiore rispetto a noi stessi e quindi si allontana ma infatti però ti dico cioè lo so sulla carta lo so però poi torno lì capito dice ma sono io che manco in qualche modo quando invece no magari un problema dell'altra persona oppure di tanti altri problemi insomma capito oppure un libro che ancora non siamo in grado di maneggiare esatto bravo il pozzo esatto non era il momento giusto l'abbiamo citata la protagonista tutta il femminile Maya chi è Maya ovviamente non ti chiedo di fare spoiler amiche e amici dovete leggervi il libro ne vale la pena chi è Maya nella finzione del romanzo e nella realtà quanto di te c'è in Maya allora di me c'è nel senso tanto nel modo in cui io sento quello sì poi chiaramente nessuna delle esperienze che è descritta nella storia è capitata a me forse diciamo è una me alternativa in un certo senso proprio perché lei invece vedi che ha il problema a posto riesce molto a tenere tutti a distanza fino a che poi succede qualcosa cosa che io invece non sono mai stata capace quindi da un certo punto ci servirebbe la via di mezzo ecco però ecco ho esplorato forse una me alternativa in questo senso però il modo di diciamo di sentirsi in comunione soprattutto quello con un'altra persona e quanto è importante quanto è totalizzante quello sicuramente mi appartiene poi Maya è un personaggio di fantasia per quello sì e come dicevamo è una ragazzina di 14 anni che si sente molto sola e a cui è stato negato diciamo un la verità ecco lei la vede così cioè la storia della sua famiglia nessuno ne parla viene omessa e per quello lei appunto non si fida e verrà in contatto con questo altro diciamo personaggio un compagno di classe che si chiama Sebastiano e anche lui per certi versi con un vissuto diverso anche lui sente che gli manca la verità e c'è stata una persona tempo fa che mi ha detto questa cosa le persone cioè diciamo ci riconosciamo se abbiamo delle ferite simili e questa cosa mi ha fatto riflettere tanto perché effettivamente se ci ragiono almeno nella mia vita è vero no? e quindi io evidentemente ho creato sulla base di questa cosa che mi è rimasta molto impressa questi due personaggi che si riconoscono per una ferita comune e forse su questo terreno su questa base all'inizio sono molto cauti però poi cominciano ad aprirsi ecco infatti diventa anche l'argomento del loro lavoro di gruppo devono fare una ricerca e la fanno proprio su decidono di farla sulla sincerità ma né Maia né Sebastiano sanno perché è importante per l'altro no? passiamo a Sebastiano Sebastiano mi ha incuriosito molto perché Sebastiano può essere uno dei miei studenti forse lo è davvero forse è stato o è uno dei miei studenti mi incuriosisce molto il nome Sebastiano da Sebastiano della storia infinita Sebastiano da San Sebastiano martire visto che ha un piccolissimo problema comune a tanti purtroppo com'è nato questo personaggio com'è nato Sebastiano? guarda io volevo appunto ho cercato di dare una controparte a Maia e quindi appunto qualcuno che fosse sospettoso degli altri perché anche lui tiene tutti a distanza però lui a differenza di Maia ha le idee più chiare mentre Maia un po' confusa e si rifusa nel suo mondo immaginario per stare meglio quindi rifiutando completamente la realtà e spesso lei dice che mi aggiro come uno zombie senza proprio interagire a livello profondo con gli altri invece Sebastiano è un po' più consapevole e ha già deciso quello che gli sta a cuore cosa farà in futuro per quello lei anche lo ammira e mentre Maia ha tante storie nate da queste parole quindi secondo lei che esistevano già quindi lei diventa solo un punto di passaggio che permette alle storie di entrare nel mondo reale e Sebastiano anche lui ha delle storie ora senza spoilerare troppo ma sono storie vere quindi fatti curiosi che riguardano la nostra vita il nostro pianeta e quindi e quindi hanno anche lì un modo per avvicinarsi e poi piano 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 capito diventeranno amici sì 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 poi insomma succedono anche tante altre cose io ho una domanda e ovviamente cercherò di non farti fare spoiler a buffo Maia Sebastiano abbiamo detto che sono due quattordicenni che per un motivo legato alla scuola saranno costretti a confrontarsi con il proprio demone interiore mi incuriosisce però se ce lo puoi dire capire in che modo reagiscono l'uno nei confronti del demone interiore dell'altra e viceversa guarda in realtà le confessioni arrivano dopo un po' dopo che appunto si sono studiati hanno passato del tempo insieme e arriva in un momento in cui si accettano cioè la confessione o diciamo il segreto di uno e dell'altra viene accettato come un dato di fatto loro tra l'altro si salutano anche con la spalla così tipo boh chi se ne frega uno dice boh l'altro chi se ne frega o viceversa proprio perché chi se ne frega no cioè le cose stanno così nessuno giudica nessuno quell'episodio quell'evento quella situazione fa parte della tua vita io l'accetto e anzi riesco magari a trovare della bellezza e della speranza dove tu pensavi che ci fosse solo dolore quindi un luogo proprio in cui va tutto bene tu scegli di ambientare il tuo romanzo in una generica cittadina italiana e questo rende veramente il tuo romanzo il romanzo degli studenti di una qualsiasi scuola media o scuola superiore perché 14 anni è un anno di passaggio come dire di qualsiasi città italiana provincia più piccola più grande come mai hai scelto di non dare un luogo definito o in un certo senso definitivo a questa storia guarda anche questa non è stata una decisione che ho preso a tavolino ma se me lo chiedi io devo dire che anche fin da quando ho cominciato a leggere quindi da quando ero ragazzina mi ricordo che quando leggevo di storie ambientate in delle città che io non conoscevo mi sentivo un po' esclusa dicevo oddio cioè è tutta una parte del romanzo che io mi sto perdendo perché io quella città non la conosco e questo un po' mi metteva un po' di distanza poi è chiaro che esistono dei romanzi in cui la città è proprio un personaggio e allora non puoi prescindere però nel mio caso io volevo raccontare una situazione diciamo di città medio piccola comunque dove ti senti puoi sentire protetto ma ti puoi sentire anche un po' chiuso che fai fatica a crescere e a diventare grande a esplorare nuove possibilità poi che potrebbe essere qualsiasi luogo poi ragionando io ho comunque messo dei dettagli di posti che conosco tipo il mercato coperto a un certo punto ho citato che c'è qui a Ravenna io abito a Ravenna oppure la fontana perché all'inizio Maya e Sebastiano si trovano una fontana per decidere come organizzare questo lavoro che devono fare insieme e questa fontana ha delle statue diciamo dalle fattezze umane però che rimangono un po' diciamo che sono un po' grezze ancora ecco che sono delle statue belle importanti ma come se non fossero non avessero fatto l'ultimo passaggio della rifinitura e quindi quello diventa anche un po' una metafora di loro che non esatto e quella è una fontana una fontana simile a Cecina dove sono cresciuta ma quello dopo ho capito poi ci ho pensato ho detto ma questa fontana assomiglia oppure perché è proprio il mercato coperto che è una zona che conosco quindi in realtà c'è sempre capito qualche briciola di me qua e là però potrebbe essere qualsiasi fontana anche abbiamo parlato prima o meglio ci hai regalato un come dire un un pezzetto molto intimo di te stessa quando hai parlato dell'autostima e della fiducia vorrei chiederti allora l'autostima e la fiducia per l'autrice Linda Traversi com'è il rapporto tra l'autrice e l'autostima 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 niente che non non sono mai a posto diciamo sono sempre sempre costantemente alla ricerca di qualcos'altro che come dicevamo prima da un lato è una cosa positiva perché se pensassi ah vado bene così forse non mi evolverei però dall'altro si può anche dire a un certo punto dico ok però mi posso anche voler bene perché questa cosa dai l'ho fatta bene oppure sono sono stata non lo so accogliente con quest'altra persona ho fatto del bene a quest'altra quindi volermi bene in generale perché non è vero che valgo poco magari valgo sicuramente più di quello che penso però insomma ma io se posso esprimermi direi assolutamente molto molto di più di quello che pensi perché poi guarda il giudizio lo danno sempre i lettori attenzione non i recensori non i recensori infatti io ho un po' un problema con le recensioni non i recensori i lettori e i lettori dicono che i tuoi romanzi sono belli sono assolutamente e lo stiamo vedendo già dalle prime vendite ecco speriamo di questo romanzo quindi che venga accolto anche questo dimmi posso farti un'ultima domanda sì immaginiamo immagina per un attimo di avere di fronte Maya e Sebastiano cosa fai? io mi metterei così così con le braccia concerte a guardarli e ascoltarli se potessi perché loro riescono a fare tutto da soli capito non hanno mica bisogno di nessun aiuto cioè si bastano come esseri umani fra di sé anzi loro si aiutano a scoprirsi però anche nelle loro difficoltà si aspettano si ascoltano si si incoraggiano senza calcolo capito ma solo perché sono così e quindi io mi piacerebbe vederli dal vivo quello sicuramente però rimarrei nelle retrovie perché loro sono già perfetti così io gli darei una leggera spinta una spintina una spintina giusto per dire andate e dai andate cioè il mondo è vostro per citare un vecchio film non adatto alla loro età però andate Linda posso chiederti di approfondire la Linda Traversi autrice da un punto di vista tecnico cioè allora tu ci hai detto che parte tutto da un'immagine un'immagine che ti fa venire mal di pancia mi piace molto questa perché dà quel senso di necessità di urgenza di buttare fuori qualcosa subito dopo che cosa succede nel tuo processo creativo continui su questo flusso di coscienza su questa ispirazione questa ispirazione continua potente oppure avuta l'immagine ti siedi a tavolino e decidi in maniera del tutto cosciente di tracciare la bozza di una trama principale delle sottotrame collegate delle scade dei personaggi guarda io non sono così tecnica io come come forse ci ho già detto non ho fatto corsi di scrittura di nessun tipo quindi non ho nemmeno una traccia diciamo su cui lavorare a cui appigliarmi parto appunto da un'immagine da un incontro da una sensazione e poi cerco di capire le persone le persone i personaggi pensa come è labile il confine tra la realtà e la fantasia i personaggi cerco di capire chi sono quei personaggi lì come sono fatti cosa hanno vissuto e quindi perché sono in quel punto specifico poi da lì diciamo penso penso e sento cosa potremmo diciamo far succedere perché la loro personalità e le loro difficoltà quindi anche si manifestino ok e quindi e poi da lì è come io lo visualizzo una specie di tipo magnete centrale e poi tutti i pezzi cominciano ad attaccarsi ma e poi più che ci pensi più che ci lavori e più che capito c'è un flusso continuo poi come ti dicevo di solito so come va a finire non è poi a volte è capitato anche che cambiassi il finale però più o meno so che tipo di evoluzione gli voglio far fare però poi tutto quello che ci sta in mezzo non lo so cioè non lo so cosa succede dipende anche giorno per giorno perché a me sta cosa mi sconvolge ogni volta tipo è lunedì ti metti di lunedì ma se per qualche motivo il martedì non puoi e ti ci metti il giovedì ti viene una cosa diversa capito quindi e ogni volta il personaggio si ramifica sempre di più e si chiarisce sempre di più per cui delle volte mi è anche capitato che quando tornavo all'inizio dicevo no no ma questo una cosa del genere non la potrebbe fare perché a quel punto la personalità del personaggio è diventata talmente solida che no questo va riscritto perché in questo punto qui lui dovrebbe fare un'altra cosa e quindi poi diventa un po' un cerchio che si chiude capito e questo è proprio bello c'è proprio il processo sai quanta gente mi ha detto ma quanti editing fai e io tanti tantissimi ma io sono contenta ne farei anche 20 capito perché 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 non si smette mai perché lo puoi sempre migliorare puoi sempre trovare dei significati diversi nascosti simbolici insomma io sì forse fa anche parte del discorso dell'autostima questo di volere riguardare le cose mille volte però è un processo potenzialmente infinito poi alla fine succede che quando arrivi in fondo ti dispiace anche abbandonare questi personaggi suppongo che ti sia successo anche nella lettura no assolutamente poi in certi libri quando li chiudi dici no e adesso ne voglio un altro voglio sapere come va a finire eh sì sì anche se a volte forse il non detto mi affascina più del detto nel senso a volte certe cose secondo me non vanno svelate per lasciare spazio all'immaginazione del lettore quello che tu hai detto il fatto di fare più volte l'editing io penso sia sintomo di una serietà e del rispetto del patto che si instaura tra chi scrive e chi legge un tallone d'achille di tanti scrittori e scrittrici è proprio l'editing nel senso ho scritto perfetto no a posto no 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 zio no non è non è finita lì lì è solo l'inizio e invece il fatto di rifare più volte l'editing anche per cercare quello che i latini dice chiamavano labor limeno la rifinitura con la pomice è quello che rende poi un romanzo non voglio dire perfetto no certo però quel romanzo che tu chiudi e ti fa venire la voglia di sapere come va a finire la storia almeno lo dico da lettore ho una domanda sempre tecnica ci hai parlato del tuo processo creativo delle varie fasi ma in quel momento in quelle settimane hai una routine di scrittura riesci a scrivere tutti i giorni a lavorare tutti i giorni dipende vorrei vorrei perché quando ti prende vorresti stare sempre lì giorno notte sempre però non sempre è possibile quindi io ho visto che sono più produttiva il pomeriggio e quindi se posso cerco di farmi un pomeriggio lunghissimo quindi pranzo presto cena o tardi magari preparo anche già per la cena capito così ho tante tante ore il pomeriggio poi arrivi però spesso che hai esaurito proprio i neuroni e allora quindi ti dai fermare almeno io non mi è mai capitato di scrivere dalla mattina alla sera alla notte con l'editing sì quando scrivo la prima stesura no no perché poi dopo un po' sei stanco io ho tanta resistenza a lavorare però nelle parti più tecniche quindi se devo fare le traduzioni se devo appunto fare anche l'editing che è di concetto anche quello però è diverso lavori su qualcosa che già c'è però se devi proprio produrre dal nulla quello veramente dipende e poi sì cerco di farlo il più possibile in un tempo ridotto però ti ripeto non sempre è possibile quindi si fa quel che si può insomma io ci penso sempre quando anche sono in giro sono magari sotto la doccia faccio delle docce delle volte oddio quanta acqua sto consumando perché magari penso ai personaggi a quello che gli posso far fare o qualcuno mi racconta una cosa interessante la incorporo è sempre è sempre un pensiero felice sempre un pensiero felice forse anche un po' un rifuso anche per me dalla realtà che a volte è veramente terribile e quindi sapere di avere un progetto è un mondo che mi aspetta che aspetta me e che mi dà la possibilità di metterci dentro tutto quello che sento tutto quello che secondo me ha senso mettere e proprio mi tranquillizza mi protegge veramente uno ha delle paure di chi scrive è il confronto con il famoso temuto blocco dello scrittore nel tuo caso è il blocco della scrittrice ti è mai capitato di confrontarti con questo blocco guarda un vero e proprio blocco ancora no mi è capitato mentre scrivevo proprio questo testo qui che per vari motivi ho dovuto appunto interrompere per un periodo un po' lungo un paio di volte quindi quando ci tornavo sopra dicevo no cioè la storia era rimasta quella dicevo no e quindi l'ho riscritto cioè l'ho riscritto tre volte cioè proprio le prime 70 pagine circa perché dicevo non funziona non funziona forse sono cambiata io in quel in quell'asso di tempo e mi interessava un punto di vista un po' diverso oppure forse non funzionava veramente quindi sono stata lì e quando tu hai già qualcosa di pronto è più faticoso in un certo senso capire cosa ci faccio cosa cambio e infatti è andata a finire che sapevo dove volevo diciamo che storia avrebbe diciamo catturato i protagonisti e quindi l'ho riscritta l'ho riscritta proprio da zero perché era era troppo difficile se non lavorare sui singoli paragrafi però non non sempre cioè ho sentito anche gente che dice no come ho buttato via 70 pagine due volte sì cioè non è buttare via è comunque un investimento certo meglio meglio come dire rinunciare a un pezzo e rifarlo rischiare di di produrre qualcosa che non va no esatto poi anche quello lo senti nella pancia dici no non so perché ma no e quindi riproviamo tanto io quello voglio fare capito e se non gli voglio bene io alle cose che scrivo chi lì deve voler bene un lettore perché magari devo pubblicare sei mesi prima no cioè capito no no è vero il tempo è preziosissimo cioè grazie a chi lo leggerà che è andato in libreria che si è preso non so qualche ora della sua vita per leggere e io devo avere la massima cura del tempo degli altri capito perché perché è una cosa importantissima quindi a maggior ragione io cerco di fare proprio del mio meglio poi non è detto che sia perfetto però io posso dire alla fine cioè io ho dato tutto ecco io tutto quello che avevo ce l'ho messo poi dove andrà e la strada che prenderà lo vedremo speriamo incrociamo le dita esatto tu hai ricevuto già alcuni premi e riconoscimenti senza voler far torto a nessuno che ne vogliamo bene a tutti quale ricordi con maggiore emozione guarda forse quando sono arrivata seconda questo premio di città di castello perché lì appunto non avevo fatto corsi non conoscevo nessuno nel mondo dell'editoria sentivo che avevo bisogno di un parere professionale e il fatto di comunque arrivare in finale e poi arrivare fra i due che sarebbero stati pubblicati ho detto oddio un traguardo enorme perché quando appunto non conosci nessuno diciamo gli autori ti sembrano degli extraterrestri che non si capisce come sia stato possibile che abbiano avuto la pubblicazione in realtà poi dopo ti rendi conto che è l'inizio quello è veramente il primo step però in quel momento lì infatti non capivo niente ho detto oddio mi pubblicano sì è stato bello è stato bello emozionante sì sì c'è un'esperienza che tu hai vissuto come dire tra l'Emilia Romagna la Toscana e la Puglia ed è stata un'esperienza l'abbiamo accennato prima che ti ha portato a incontrare tantissimi studenti della secondaria di primo grado e della secondaria di secondo grado per chi non è ciovane per chi non è ciovane parliamo di scuole medie e scuole superiori ci parli di questa esperienza guarda bellissimo veramente bellissimo ho dato proprio tanto a me devo dire anche che proprio mi interessa quello che hanno da dire quindi quando poi li incontro parlano tanto loro perché li faccio mille domande cioè è proprio bello a parte che sono super sinceri e quindi cioè se anche solo gli annoio un attimo cioè proprio si vede subito quindi parliamo solo di cose che ci interessano cioè il discorso prende subito la piega che è giusta per il pubblico no? e poi appunto tanti magari si sono coinvolti molto nella storia e altri con altri invece parliamo di creatività di scrittura o di quello che vorrebbero fare da grandi quando sono andata in Puglia addirittura no lì cioè mi hanno fatto praticamente sedere insieme alle insegnanti e c'erano tutte queste classi che si susseguivano hanno messo su una specie di spettacolo in cui c'erano delle parti recitate delle parti che avevano integrato con dei powerpoint e dei disegni ero lì che cercavo di non piangere cioè è stato veramente bellissimo sapere che ci hanno lavorato così tanto e si sono connessi tanto con con la storia parlo ovviamente della panchina delle cose difficili spero che anche questo libro riparatore di sogni mi darà la stessa possibilità di parlare con loro perché è stato veramente tanto arricchente io anzi io ne ho anche tenuto conto di tanti di tanti feedback che mi hanno dato in questo in questo nuovo libro perché è giusto anche ritrovarsi ancora di più no? nelle storie che si vanno a leggere e io poi devo dire che ho anche scoperto di essere una tredicenne in realtà cioè io davvero io ho tredici anni è per quello che io mi sento proprio a casa a casa io mi sono fatta sto pensiero ho una domanda molto seria da farti vai hai mangiato bene in Puglia? devo dire qualcosa cioè infatti è stato un trauma ripartire è stato un trauma un trauma un trauma no infatti spero che ci saranno altre occasioni ho detto ma fatemi stare per più giorni perché sono stata poi accolta come una di famiglia veramente è stato veramente veramente bello veramente Linda tu vivi in Italia sì non diciamo dove perché queste cose private sì ma tanto l'ho già detto prima cancellate l'intervista tu vivi in Italia però la mamma è americana vorrei chiederti quanto della cultura americana c'è in te quanto degli states c'è nella tua scrittura secondo me tanto perché io sono comunque cresciuta con questi due sistemi linguistici in testa ed era un po' confusa perché ora te non so quanto sai l'inglese ma se sai anche un'altra lingua poco quando te sei bilingue ci sono chiaramente dei modi di dire non tanto delle parole no dei modi di dire che è come se la lingua influenza il pensiero ma il pensiero influenza la lingua cioè è un ricircolo continuo quindi io tante volte anche in italiano vorrei dire un concetto che però non appartiene alla lingua italiana e quindi dico ah no devo dire un'altra cosa perché quindi sono sempre stata molto attenta a come ci si esprime alle parole che uno usa anche alla musicalità l'italiano è bellissima per questa cosa qui perché c'ha tutte queste vocali l'inglese mi piace perché è dritto al punto non voglio generalizzare però in linea di massima il mondo anglosassone è più asciutto come scrittura mentre l'italiano no l'italiano è più cioè è più lungo tante magari più subordinate e io invece forse è anche questo background che ho mi piace di più fare delle frasi brevi tante magari coordinate però l'italiano ti dà tanta più flessibilità nella nella frase quindi io ecco una cosa che faccio anche se il concetto di quello che voglio esprimere non so in un paragrafo è lo stesso però spesso mi trovo a girare magari tolgo la virgola oppure faccio il focus allora inverto proprio per dare un ritmo di canzone perché è quello che dicono sai all'estero che gli italiani sembra che cantino è vero è vero è vero e quindi perché non usarlo che è una cosa bellissima e gesticoliamo moltissimo ma lo sai che mi prendono in giro perché dicono che in inglese parlo un americano standard però gesticolo dicono ma c'è qualcosa che non va perché comunque mi trasporto questa cosa dei gesti anche nell'inglese e quindi e quindi questo quindi mi piace uno stile asciutto musicale e questa è una cosa italiana e mi piace l'essere colloquiale quindi il poter utilizzare anche delle parole molto molto semplici che però hanno tanto significato senza per forza andare a cercare registri diversi poi a maggior ragione perché parliamo di letteratura per ragazzi e anche un'altra cosa perché io ho fatto ecco non un vero proprio corso di scrittura ma ai tempi dell'università ho fatto dei corsi delle sessions delle summer sessions in un paio di università americane e uno di questi due era proprio un non fiction writing e ero poi in classe con tutti gli americani e lì mi sono resa conto che noi europei credo europei italiani sicuramente studiamo tantissimo quindi il critico letterario andiamo lo studio sono qui e quindi non so la spiegazione della poesia negli Stati Uniti un po' meno che diciamo forse un po' troppo delle volte però lì mi hanno un po' istradato a pensare per me cioè cosa ne pensi te di questo argomento come lo costruiresti te se no it was up to you se fosse in tuo potere e una cosa che io non mi sono mai sentita libera di fare qua perché mi sentivo schiacciata dalla mia ignoranza dicevo ma io cosa devo dire di una poesia che non ho studiato questo questo non so tutto il movimento prima non ho approfondito che è giusto anche lì secondo me una via di mezzo sarebbe la cosa ideale però è stata la prima volta in cui ho rogianato dicendo ok ma allora anche io posso avere un'opinione che conta forse anche lì è stato piantato il germe di una storia che potevo scrivere io anche se non ero in grado cioè dico ancora di non essere in grado ecco io ci provo io ci provo ci provo sempre però ecco vedi ho tante paure però le cose le faccio lo stesso almeno me lo dico da sola sai stavo pensando parlando di non fiction per chi non non ha colto è la non narrativa o meglio la non non è la narrativa di intrattenimento il saggio l'esse no il probabilmente è dovuto al sistema scolastico italiano ma proprio all'impostazione perché le tesi triennali di base sono tesi comparative teoria teoria b si confrontano e tu decidi se stai da un lato o dall'altro per una tesi sperimentale vera e propria quindi quella che in italia è la tesi sperimentale ma negli stati uniti è tu che ne pensi dimmi la tua si aspetta o la tesi della magistrale o addirittura quella del dottorato e a onore del vero mi sono confrontato con tutte e tre le tipologie di tesi e mi rendo conto che il passaggio tra triennale e specialistica è stato proprio il passaggio da according to a io penso ecco vedi quindi è vero non non siamo abituati non siamo abituati perché poi siamo capaci anzi capacissimi però ci insegnano che prima dobbiamo studiare tutto quello che c'è stato prima che ti ripeto non è una cosa brutta però forse pendiamo troppo da quel lato lì e allora uno io almeno ero inibita dicevo ma io che devo dire di interessante mi gioco un'altra carta inglese l'entitlement oh my god ma allora lo sai l'inglese Alfonso è vero è vero cioè bisogna il titolo no se hai il titolo puoi dire e ci dimentichiamo che c'è un pezzo della letteratura italiana tra gli anni tra fine anni 60 e metà anni 70 che è stata fatta non di diciamo semi analfabeti ma è per dire ed è un pezzo freschissimo è un pezzo della letteratura che è meraviglioso ma infatti perché è importante quello che hai da dire tu in quel momento lì poi è opinabile è sempre tutto opinabile no non è che c'è la verità assoluta però anche se hai paura ti puoi buttare ti puoi lanciare si può fare ecco è vero si può fare si può fare Linda una delle domande che mi piace porre agli ospiti di questo canale che cos'è per te la felicità oddio un'altra domandone esistenziale allora per me la felicità visto che appunto sono dei momenti esiste capito io voglio essere felice è sentirsi che stai facendo la cosa giusta per te in quel momento quindi essere centrati che poi può cambiare nel corso della vita perché come dicevamo prima è sempre giusto adattarsi però quando per esempio io che ho trovato questa cosa della scrittura io adesso quando scrivo non vorrei essere da nessun'altra parte capito e questa è fatica anche fatica però per me è anche felicità perché faccio esattamente quello that I'm meant to be doing che dovrei fare capito almeno per ora poi vediamo progetti per il futuro che cosa bolle in pentola se ce lo puoi dire allora a parte la promozione del libro che è appena uscito voglio dire andate in libreria mi raccomando nelle naudi speriamo io sto ho già cominciato un'altra storia che è sempre per ragazzi anche questa poi vediamo 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 che succede io ti ripeto siccome è una cosa che proprio mi protegge da tutto il resto io comunque so che c'è ho già fatto i personaggi ho già cominciato proprio e quindi appena un mezzo pomeriggio io torno lì sicuramente questi miei nuovi due personaggi importanti due no sono più di due stavolta è un romanzo più corale questo vediamo vediamo cosa esce poi magari lo riscrivo tutto sai com'è comunque spero che ti rivedrò in altre occasioni assolutamente per altri capito per altre uscite cioè incrociamo io metto le mani avanti e ti invito già da ora quindi allora allora devo fare una cosa fatta bene io vorrei ricordare chi ci ha ascoltato finora che il riparatore di sogni l'ultimissimo perché veramente è uscito pochi giorni fa il 23 l'ultimissimo romanzo di Linda Traversi è edito da Enaudi Ragazzi lo trovate in tutte le librerie Enaudi in Italia lo potete acquistare dal sito dell'Enaudi lo potete acquistare da Amazon.it trovate il link in descrizione cosa banale vi invito a seguire l'Enaudi sia la forma classica che Enaudi Ragazzi i profili social dell'Enaudi ma soprattutto vi invito a seguire il profilo di Linda Traversi il profilo Instagram ma non solo per seguire tutte le attività promozionali e non di Linda perché sono sicuro che il firma copie sarà felicissima di farlo io delle volte guarda dovrei proprio attaccare dei post-it per le idee che faccio perché lunghissime lunghissime faccio la fila perché proprio voglio stare con tutti Linda io ti ringrazio per il tempo che ci hai dedicato per l'esperienza che ci hai donato perché l'esperienza non da poco e ti dico grazie a nome dei tuoi futuri piccoli lettori perché è banale dirlo io ormai ho superato gli ANTA quindi sono in un universo diverso però quello che fai tu per i ragazzi per far crescere la nuova generazione di lettori è qualcosa veramente di importante ci dimentichiamo a volte che ci sono i tredicenni quattordicenni in fissa che vogliono leggere e quindi grazie ma grazie a te Alfonso di questa bella chiacchierata e a tutti gli ascoltatori e spero di incontrarvi di persona prima o poi pure me pure io anche te anche te certo ti abbraccio Linda ciao anche io ciao